e ben a tutti ragazzi eccoci qua in questo nuovo video su The Last of Us raga siamo usciti fuori dalla zona l'ultima puntata dalla zona protetta e abbiamo scoperto che la ragazzina che ci hanno affidato è infetta andiamo a scoprire cosa ci aspetta ora in questa puntata perché è pieno di colpi di scena questo gioco vediamo se c'è qualcosa un'arma cioè noi siamo senza armi senza niente usciamo di qua ancora polizioni se ne stanno andando comunque siamo senza munizioni raga qua la situazione diventa problematica scendiamo la luce sono delle varie vie qua possiamo rialzarci vediamo se troviamo qualcosa oh attenzione due munizioni forbici qua c'è tanta roba raga tanta bella robina c'è attenzione vediamo qua qua niente basta vi ho raccolto tutto andiamo avanti andiamo avanti ok andiamo verso il condotto si torna al muro dai sembra che se ne stiano andando i polizioni bene sono andati ok qual era il piano se anche riuscissimo a consegnarti alle luci che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena i loro dottori stanno studiando una cura si mai sentita eh Tess è che quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino oh Cristo ecco è quello che ha detto ma certo non ho alcun dubbio ehi vaffanculo non l'ho chiesto io neanche io Tess che cazzo ci facciamo qui? e se fosse vero? non ci credo se fosse così Joel siamo arrivati fin qui andiamo fino in fondo devo ricordarti che cosa c'è là fuori? eh robe bruze scommette ho capito la fuori scommette io sono robe bruze allora che roba apocalittico passando dal centro arriveremo al palazzo del governo per l'alba speriamo raga per chi piacciono i film apocalittici giochi apocalittici questo è il giocone raga stile survival allora guardate anche i tuoni gioco fantastico raga nulla da dire guarda che roba oddio mio è spettacolo è spettacolo hanno bombardato tutte le aree fuori dalle zone di quarantena nella spazio che cavolo era? ho sentito sì ma sembrava abbastanza lontano la verità siamo salvi per ora dai eh beh va che roba raga è un bel salto guarda il palazzo del governo sì superiamo questo punto direi che questo è il centro era ora è desolazione guardate che roba raga mamma mia che spettacolo beh comunque dobbiamo buttarci di sotto non credo che sia una buona idea buttarci di sotto raga dobbiamo trovare delle vie alternative da qui ok lo zio trova la via ma non credo non credo che sia la via giusta a buttarsi ecco da qua da qua guardate là raga la zona recintata cerca il muro quello è il muro raga noi ora siamo all'esterno ok siamo all'esterno quindi a breve arriveranno le brutte cose secondo me ehi Tess arrivo qua è un po' è stato fatto a pezzi sì è morto da poco ed è un male sì potrebbe andiamo via è un male sì chi è che l'ha rectato sto palazzo regale è tutto prendi 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 è tutto storto vedete sta per sta per crollare andiamo su un altro merda cos'è? registro delle operazioni arrivata la griglia eh un tratto negativo vabbè i spostamenti delle pattuglie guardate sono morti aspettando i rinforzi un altro cadavere qua oh cazzo un clicker cos'è successo è così dopo anni di infezione e quindi sono c'è che più o meno vedono tramite i pipistrelli come i pipistrelli non ha più un incidente il click devi nasconderti oddio sembra che l'edificio sta per cadere a pezzi oh qua c'è qualcosa gli integratori ok occhialo testa si eccolo lo stavo dicendo prima secondo me sta per crollare tutto si muove tutto aia vediamo se c'è qualcosa qua si qua c'è della roba per noi proiettili non ne abbiamo ancora trovati mi sa che siamo ancora secco andiamo di qua l'unica porta che c'è dammi una mano con questa vai oh ecco i mostri i clicker grazie stai bene non è niente cerchiamo propiste premi per creare che dobbiamo creare come si crea qua mi sa che abbiamo usato tutti i pezzi ok abbiamo pochissima vita dobbiamo fare attenzione vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di buono una bottiglia tieni rimettiti in sesto grazie mille la ringrazio teniamoci il mattone in mano ragazzi caso glielo tiriamo in testa i clicker forza andiamoci all'infletta qua non si va accidenti c'è uno a penzoloni qua c'è uno che sta penzolando vediamo se c'è qualcosa tanto che elly sale no niente munizioni dammi la mano arrivo arrivo omone andiamo arrivo e ora no via i clicker facciamo attenzione ai clicker prendiamo la bottiglia che mi sa che contro i clicker ci serviranno le bottiglie vai la e dai ho lanciato la bottiglia non gliene frega niente usciremo sopra la palcatura ok via 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 se n'è andato il clicker via ok fatto elly stai bene a parte farmela addosso sto bene no ok raga ok abbiamo creato un un kit com'è che si usava ok curiamoci va che ok andiamo avanti siamo curati perchè sennò era da gg rect qua da un secondo che macello che sta a fa eccoci ragazzi dai dentro ok la tomba delle scale è bloccata dobbiamo tornare su no come dobbiamo tornare su ma c'è nè qua 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 stai scherzando va vai fammi passare ma c'è nè non regge tanto eh oddio guardate che roba apocalittico raga apocalittico ok abbiamo fatto il giri il giri in girello andiamo un po' oh oh c'è qualcosa qua munizioni alleluia nuova arma rivoltella oh yes abbiamo trovato la rivoltella slot delle armi puoi trasportare più armi rispetto al numero di fondine di cui disponi armi aggiuntive sono custodite nell'inventario da dove potrai scambiarle con quelle equipaggiate ok se ne sei un'arma da scambiare devi due x per richiamare l'inventario all'inventario allora ok qua c'è l'arma ti eri prenduto x per scambiarle non te le fa scambiare vabbè allora eh qua non mi fa muovere devo farlo per forza sto cosa ammazza vieni usa destra e sinistra per seleziono slot armi tieni premuto x per scambiarle ho fatto tenuto e premuto x ok no non gli piace ah ok ecco ce l'abbiamo fatta runner chi è il mondo rimani con il ragazzo riga guarda brutti brutti rumori dove sono i runner raccogliamo il bastone va no però ahia furtivi 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 raga questo era infetto oh c'è anche l'arma bene allora vediamo un po' oh shit chi è che mi sta madonna corsa veloce per scappare via 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 scappate Eh raga erano in troppi erano. No no clicker no 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 clicker. E dove vado raga? No 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 raga. Via 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 scappando. Si va che se ne ricorrono. Eh va te mazzena mazzena. Eh mazzena. Gli infetti runner hanno ancora la vista vicino ad essi con estrema cautela eh mazzena. E dimmelo prima. Allora tutto in furtiva dai. Ma oh raga è complicata la situazione qua eh. Allora. Raga qua non dobbiamo assolutamente farci vedere. Togliamo le luci. Aia 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 aia. Quello cos'è? Un clicker? No è un runner. Boh. No è un... Boh non lo so. Comunque... Oh. Non capisco se quello è un runner o un clicker. Qua ce n'è uno. Nooo. Nooo. Marci. Rega ma sta parte è impossibile di... ho capito che dobbiamo usare la strategia ma e qua inizia la roba cioè è difficile sto gioco attenzione allora proviamo ad andare di là va spegniamo la luce che se no ci vedono e il fatto è che sono tanti no si è si è oh regalo ma il clicker ti serve un cortello per uccidere il clicker capito sto clicker ma già ma c'è no ora vado direttamente dal clicker se no qua facciamo notte no qua no no non mi hai visto tu non mi hai visto sono tanti regà qua se te ne parte uno ti partono tutti zitti tutti regà vediamo la bottiglia e dai corri corri via 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 il problema è il clicker scappando eh vabbè c'è il clicker no 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 il clicker 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 no è quello pericoloso via 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 regà il clicker è quello pericoloso Ah, il clicker! Via, via, via! Via, via! Via, via, via! Via, via, via! Rega, il clicker non so come levarmelo dai piedi, eh! Il clicker non so come levarmelo dai piedi! Serio, dov'è? Ok, ecco! No il flicker, il flicker! Via, 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 via. Ok, questa è la strategia dello zio. Appena arriva il flicker, via. Madonna, se non te la finisci. Spappolato. Dov'è il flicker? No, 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 tu non mi hai visto, tu non mi hai visto. Allora clicca, ragazzi, pensate che possiamo solo... Sparargli. Vieni qua. Oh, no, 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 no! Eh dai, dai! Eh... Ma se non è il giù! E dai, sempre da qua mi fa ripartire, eh Dio, li ho ammazzati tutti, li ho ammazzati scappando, correndo Ma il clicker, regà, come si ammazza? E dai, però Cioè, non si può uccidere il clicker, oh Adesso vado in pistola, basta, mi sono stufato, guarda il clicker, vado subito sul clicker Non muore, non muore, il clicker non muore, regà, non muore, oddio, non muore Non muore, io ho sparato 6 colpi, non muore E amore che il clicker mi fa ex, dai levati Via 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 che arriva il clicker, via Eccolo là Ok, non il clicker No, il clicker, oh regà, ma non si può, non si può ammazzare il clicker Prima è andato Hai munizioni? Beccati questo, beccati questo, madonna E' beccati questo, e questo, e questo Levati te, levati, levati che li abbia ucciditi tutti adesso con le mie mani Boom, boom, boom Destro in faccia cucaraccia Oh ma questo è un clicker Oh, levati Quante ne sono? Beccati quei, madonna Bene, scendi Tio, regà Micidiale, eh, sta parte Mazzonna, cara, il clicker maledetto Sono stupita, cioè Psst Andiamocene Oh, mazzo, inna, cara Andiamoci, dove ce ne andiamo di brutto? Qua, regà, è un casino, eh Vediamoci un po' di vita Che siamo un bastone Mattoni, siamo al massimo Snack Da qua, si va? Di qua, di qua, regà Di qua, ho trovato una via Ok, un proiettile Ok, questa è la via Regà, per questa puntata Non stiamo a fermarci qua Quel clicker lì, regà Mi ha proprio fatto Inbestialire Il clicker Regà, è possibile ammazzarli Devi svuotarli Un caricatore intero Per uccidere i clicker I runners Li prendi pure A calci Ma i clicker micidiali, regà Vabbè, comunque Ne sapremo di più Nella prossima puntata, regà Fate che sapete nei commenti Se vi sta piacendo questo gioco A me sì Però è molto, molto, molto Difficile, regà Ve lo dico Vabbè C'hai tanti like C'hai tanti commenti E noi, come sempre Ci becchiamo al prossimo video Bella, regà Ciao